Grazie Presidente. Colleghi pochi, quelli che sono nell'Aula, nonostante il rito che si ripresenta della fiducia, dovrebbe essere un pochettino più partecipato, se non altro da chi in maniera così convinta, o più o meno convinta diciamo, soprattutto all'interno del Partito Democratico, crede veramente che gli spot pubblicitari di Renzi poi possono portare in qualche modo a far assaggiare agli italiani un prodotto che ci auguriamo non sia, che per ora non vediamo, ma che ci auguriamo che non sia indigesto come quello propinato dagli ultimi governi non eletti che ci siamo dovuti sorbire all'interno di questo Paese. Detto ciò è chiaro che noi non voteremo assolutamente la fiducia al Governo Renzi per tutta una serie di motivi diversi, sia di metodo che di sostanza. Nel metodo, come ricordavo ieri appena il Ministro Boschi è arrivato in quest'Aula, così in maniera molto semplice a dirci che ritornava il rito della fiducia quando non si riuscivano a risolvere problemi politici all'interno della maggioranza, il metodo di mettere questa sorta di tagliola nei confronti di un dibattito parlamentare su un tema delicatissimo come quello delle missioni internazionali, tema delicato non solo per la vicenda squallida che i precedenti governi, ma mi pare anche questo non riesce a risolvere dei marò, ma anche per come vengono affrontate le missioni internazionali. Le missioni internazionali devono essere affrontate in un Paese serio ed evidentemente non lo siamo sotto questo profilo singolarmente. Quando si decide di inviare delle truppe che siano militari o che siano cooperanti in Paesi che hanno bisogno di un sostegno o hanno bisogno di una forza di interposizione, spesso e volentieri perché ci sono conflitti che vanno a toccare poi i civili, è chiaro che ci deve essere un dibattito serio all'interno del Parlamento perché la Costituzione che voi tanto sbandierate a difesa dei vostri interessi, ma non di quelli collettivi, lo impone. Quando ci sono missioni che devono spostare comunque risorse di tutti i cittadini in Paesi stranieri, è chiaro che ci dovrebbe essere un dibattito approfondito. No, invece voi continuate con il vecchio metodo di fare cosa? Di mettere tutto in un unico calderone in modo che non si possa andare ad analizzare quello che è effettivamente il rapporto costi benefici di queste missioni e magari ci buttate dentro, come è successo in questo decreto qui, un po' di marchette per qualche amico perché magari così qualcuno passa in mal di pancia, visto che incredibilmente una buona parte della sinistra quando è in opposizione è totalmente antimilitarista, quando va al governo invece assolutamente le missioni internazionali non si possono toccare. Ecco, noi questo metodo ipocrita di affrontare quelli che sono delle vere e proprie emergenze sul piano internazionale non ci piace, quindi chiaramente non possiamo aderire né alla richiesta del voto di fiducia, ma anche per un fatto politico. Non crediamo, non crediamo e lo ripeto, che il grande show di ieri del signor Renzi possa portare a dei risultati concreti, anche perché la controprova l'abbiamo avuta pochi minuti fa. Ieri sembrava che il Presidente del Consiglio avesse vinto la lotteria. Io mi ricordo l'ultima, perché mi ricordo l'ultima legge di stabilità quando c'erano colleghi che si arrabattavano per trovare coperture da pochi milioni o addirittura a certe volte da poche centinaia di migliaia di euro per dare copertura magari a dei servizi essenziali come quelli sociali, adesso invece si trovano miliardi come se, non lo so, quelli che c'erano prima evidentemente erano tutti rimbambiti e avevano aperti i cassetti sbagliati. Ecco, il problema è che poi dalla pubblicità si va alla realtà. E cos'è stato? Mezz'ora fa, un'ora fa, il Ministro del Welfare ha già detto, attenzione però, manca un miliardo per la Cassa Integrazione in deroga, ecco che iniziano ad arrivare i problemi. Allora, a noi le cialtronate non piacciono. Questo decreto è una cialtronata a tutti gli effetti, perché, ripeto, metti assieme cose delicatissime con cose che non hanno assolutamente nulla a che vedere con quello che è l'importanza di determinate missioni. Non pone, e questa è una cosa, l'abbiamo detto ieri, sul piano della costituzionalità, non pone nulla di costituzionale, perché fare un decreto e quindi usare la decretazione di urgenza, chiedere l'urgenza per introdurre una norma, semplicemente per prorogare di sei mesi missioni che sappiamo benissimo, tipo quell'afghana che dureranno almeno fino alla fine dell'anno, è un'ennesima presa in giro nei confronti del Parlamento e dei cittadini. Viene completamente drenato il fondo per le missioni, non si sa come verrà eventualmente rifinanziato, se ci saranno emergenze, quelle sì, non potranno essere finanziate perché il fondo è stato svuotato, però voi evidentemente questo modo di fare, ripeto, cialtronesco, piace e forse è anche l'unico che conoscete e quindi è chiaro che per noi anche sotto un profilo della sostanza questo provvedimento qui non può assolutamente trovare il nostro favore e non lo può trovare anche perché non avete avuto il coraggio, e chiudo Presidente, di inserire un minimo di ragionamento, io capisco che non è una questione che si possa risolvere con legge, ma si possono creare le condizioni affinché ci sia una tutela forte per la questione dei due Marocchi che sono tuttora trattenuti in India. Il governo, i passi che ha fatto ultimamente in senso buono, noi riteniamo, ma li ha fatti perché si è stata stimolata dall'opposizione, non perché hanno finalmente capito qual era la strada giusta, ve l'abbiamo indicata noi, cioè il ricorso a un tribunale internazionale chiedendo di applicare la legge del mare di Hamburgo e non le trattative di un signore, fra l'altro demandate ad un signore che era presente al governo lo stesso giorno in cui è successo il pasticcio. Allora io mi chiedo con quale credibilità voi potete pensare di trattare con gli indiani, mandando a trattare la stessa persona che di fatto ha combinato il pasticcio, cioè l'ex sottosegretario e attuale commissario De Mistura. Ecco, ripeto, il leitmotiv di questo decreto e mi sembra anche il leitmotiv di un po' tutto il neonato, ma già vecchio, se non altro per i metodi che utilizza per cercare di dare soluzioni o perlomeno per cercare di vendere in qualche modo un prodotto che evidentemente ancora però non è riuscito a rendere credibile, non ci piacciono. Sono assolutamente, ripeto, sono fumosi, sono confusi e sono molto ma molto cialtroneschi e quindi per questo noi assolutamente non daremo assolutamente né la fiducia né voteremo a favore del voto finale di questo provvedimento. Grazie.